Scrivere libri con CiaGPT è semplicissimo, metterli su Amazon è altrettanto semplice, venderli forse c'è bisogno di dare qualche consiglio, visto che me l'avete chiesto, e in questo video facciamo proprio un corso su come ottenere vendite su Amazon, anche se vendere libri su Amazon è, diciamo, in modo, avviene di solito in modo organico, perché è Amazon che fa tutto, però noi dobbiamo essere pronti, nel senso Amazon consiglia il nostro libro, però noi dobbiamo aver creato un libro che risolve un problema, è chiaro, ha una descrizione che converte e adesso vi spiego come fare tutte queste cose, perché sono, diciamo, queste cose che poi fanno ottenere vendite, perché Amazon propone il libro organicamente, il fatto di ottenere vendite succede perché quello che la gente vede davanti agli occhi è un qualcosa che gli interessa, è chiaro, capisci a cosa serve questo libro, gli serve, perché Amazon ti mette davanti praticamente alle persone che hanno quel problema, perché dico questo? Perché ovviamente dobbiamo scrivere manuali, manuali che risolvono problemi, e se facciamo un'operazione del genere, ovviamente vogliamo fare soldi, ok, lo facciamo per fare soldi, quindi dobbiamo scrivere tutta una serie di manuali, che con chat GPT è semplicissimo da scrivere, però poi dobbiamo impostare il tutto, impaginare il tutto in modo da poi ottenere vendite, se no il nostro libro non vende niente, ok? Quindi facciamo un vero e proprio corso sulla vendita, tutti vi dicono di scrivere libri su chat GPT, che è il modo più semplice per guadagnare, ma nessuno vi dice poi come venderli questi libri, come ottenere vendite davvero. Io ve lo faccio per, diciamo, la prima volta, e forse sono uno dei pochi che parla di questo argomento, quindi iscrivetevi al canale, e poi ve lo faccio con un libro che ho scritto con chat GPT, perché c'è il mio corso, vi metto in descrizione qui nelle schede il video, comunque il video più visto, più popolare di questo canale YouTube, il mio corso di un'ora su come scrivere un libro su praticamente Amazon, venderli, ottenere guadagni, vi faccio vedere i guadagni, i guadagni sono aumentati, ve li faccio vedere anche in questo video, quindi il libro sta generando vendite, ok? Ed è una roba che io ho fatto solo per farvi vedere il corso, cioè solo per registrare il corso, l'ho scritto velocemente con un'intelligenza artificiale, ed è pazzesco che poi talmente funziona sta roba, che anche un libro fatto un po' così velocemente, ma fatto con criterio, può generare delle vendite. Andiamo a vedere innanzitutto le vendite. Quindi diciamo, prima di andare a vedere le vendite, diciamo che questa è la seconda parte di quel corso, abbiamo visto come funziona la scrittura con un'intelligenza artificiale, come impostare il tutto, come caricarlo, come impaginarlo, tutte le cose tecniche. Adesso vediamo, facciamo un proseguio, non so se si dice così, continuiamo con il corso dando dei consigli su come vendere, su come puoi ottenere delle vendite, quindi come puoi generare vendite, ma le vendite si generano proprio dal principio, dal momento in cui tu decidi su quale argomento fare il libro e come scrivi la descrizione. La descrizione deve essere fatta in un determinato modo, la copertina deve essere fatta in un determinato modo. Adesso analizziamo tutte queste cose e lo facciamo su un libro che io ho scritto con l'intelligenza artificiale, c'è il mio corso, lo metto anche qui nelle schede, e vi faccio vedere le vendite. Allora, il libro è come guadagnare su Airbnb e Booking con la sublocazione, strategie vincenti per fare più 5.000 euro al mese con un appartamento. E siamo qui. Come guadagnare? Gli altri li ho oscurati ovviamente, io faccio Kindle Publishing, ho tanti libri, ora è tanto che non pubblico un libro perché questo canale YouTube mi porta tanto tempo, però ho una serie di libri che mi generano vendite ogni mese. Questo libro ha generato 82,75 euro di vendite, ok? 82 euro senza fare niente, ok? Ok ragazzi? Sì. Come mai è successo questo? Andiamo ad analizzare. E' importante scegliere bene l'argomento ragazzi, ok? L'argomento deve essere un qualcosa di specifico, una nicchia, una macronicchia dovete scegliere, un argomento, e poi dovete scegliere una sottonicchia, dovete essere più specifici possibili, per esempio Bitcoin, cripto, ok? Categoria cripto, potreste scrivere un libro, come guadagnare con le cripto, ancora troppo generico, come guadagnare con le cripto, come fare un pack sulle cripto, eh, 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 potrebbe essere interessante un libro che si intitola come generare 100.000 dollari in 18 mesi, vedete che è super specifico? come generare 100.000 dollari in 18 mesi, accumulando Bitcoin, ok? Ragazzi, iscrivetevi al canale e commentate, Miki stai esagerando, perché questi sono concetti che si fanno pagare in consulenza, la gente viene da me, e io gli dico queste cose, la gente paga, se volete fare una consulenza, in descrizione c'è la mia mail, mi scrivete, ci mettiamo d'accordo, posso aiutarvi nel vostro business, o posso aiutarvi a capire quale business è meglio per voi, e posso aiutarvi poi a metterlo in piedi, scrivetemi una mail, ok? Facciamo una consulenza, qua la roba scotta, questo video scotta, iscrivetevi e commentate, Miki mi sto bruciando, scrivetelo subito adesso, Miki mi sto bruciando a guardare questo video, informazioni che scottano, ok? Cioè, ragazzi, quindi, prima cosa da fare, scegliere una nicchia, e poi scegliere una sottonicchia, nel senso, essere super specifici, ok? Guadagnare online, andate specifici, vedete perché qui ha funzionato, perché io ti dico, strategie vincenti per fare 5.000 euro al mese, sono specifico, 5.000 euro al mese, ok? E' importante, quindi, come fare 100.000 euro in 18 mesi, con le cripto, accumulando bitcoin, per esempio, super 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 specifici, e già da qui si, e già da qui, partiamo bene, perché Amazon andrà a consigliare a tutti quelli che amano le cripto, amano il guadagnare online, guadagni passivi, vedrà, e gli andrà a presentare il libro, perché lo farà, e vi troverà le persone giuste, è per questo che mettiamo libri su Amazon, ma poi, quello che vi voglio far capire, è che, deve matchare, quello che la gente, o, quello che la gente si vedrà davanti, dovrà, interessare, perché Amazon ti mette davanti, ma se tu gliel'hai presentato male, Amazon ti trova le persone giuste, ma se tu gliel'hai presentate male, o non si capisce, o è troppo generico, uno andrà a spendere, i soldi altrove, quindi, la prima cosa, è, super specifico, argomento super verticale, super specifico, di una sottonicchia, ok, cripto, andiamo specifico, come guadagnare in 18 mesi, oppure, che ne so, facciamo un esempio con un cane, come ottenere, come addestrare un cane in 18 mesi, e renderlo, ubbidiente, no, non mi piace, come trasformare, andate specifici, come ottenere, un cane docile in 18 mesi, con, questa tecnica, ok, deve essere super specifico il libro, e deve offrire, una soluzione ad un problema, trovate il problema, un problema, e createci una soluzione, e la soluzione qual è? Questo libro, questo manuale, in questo manuale, trovi la soluzione, e lo dovete scrivere nella descrizione, ok, dovete essere chiari, e ci deve essere anche una call to action, cioè, la fine della descrizione, deve finire, sì, la descrizione deve finire con, cosa aspetti, acquista adesso, clicca sul, acquista ora, e fai tuo questo manuale, per risolvere definitivamente il problema, quindi scegliete bene, siate super specifici, date una soluzione, ditelo già nel titolo, qual è la vostra soluzione super specifica, in un'altra nicchia, giardinaggio, come avere un prato, perfetto in 12 mesi, con questo metodo, ok, è importante, mettetelo, nella descrizione, vedete, io qui l'ho messo, scusate, nella copertina, più 5000 euro al mese, con un appartamento su Airbnb, Airbnb, ok, un prato, prato pulito, oppure sì, prato pulito, in sette giorni, ok, però ovviamente, se non, l'argomento non è il vostro, dovete fare della ricerca, dovete ricercare, cioè, quali sono, voglio parlare di questo, quali sono i maggiori problemi, che le persone hanno, un cane, qual è il maggiore problema, è il cane, mi distrugge il divano, un gatto, che fa il gatto, graffia, mi rovina il divano, come addestrare il tuo gatto, a non farti distruggere casa, in sette mosse, ok, date la, soluzione, e poi in copertina mettete, sette mosse, per avere un gatto, educato, ok, capitemi però, quello che sto cercando di trasmettervi, perché è molto importante, che voi, il libro lo dovete strutturare, già per vendere, nel titolo, nella copertina, nella descrizione, andiamo a vedere la descrizione, quindi qui cos'è, che ha reso possibile fare queste vendite, e questo libro continua a vendere, ed è Amazon che lo consiglia, e lo vende, che cosa rende possibile tutto questo, il fatto che ti dice, con mano, ti dà una soluzione, vuoi guadagnare con Airbnb, questo libro ti dice, come fare 5.000 euro al mese, con un appartamento, ok, concreto, e te lo mette, 5.000 euro al mese, con un appartamento, se considerate che poi, è anche il prezzo, questo, ho visto, che ha il prezzo più basso, per questo argomento, tra i libri, e questo ha aiutato anche, quindi, fate un libro, non troppo lungo, vedetevi il corso, e poi mettete, formato Kindle, 2 euro e 99, copertina flessibile, 7 euro e 27, ora i prezzi aumenteranno, quindi magari mettete, 8 euro, nella copertina flessibile, un prezzo basso, tanto l'ha scritto, c'è a GPT, e quello che dovete fare, è creare, tanti asset, tanti libri così, fatti per bene, che hanno, che rispondono a un problema, sono specifici, hanno la soluzione, tanti, e poi quindi, dovete moltiplicare, per esempio, questo ha fatto 80 euro, se fossero stati 10 libri, fatti così, per bene, a modino, sarebbero stati 800 euro, ok, quindi vi dovete mettere sotto, se volete mettere in piedi, un business serio, su Amazon di libri, e fare, con Cia GPT, è imbarazzante, potete scrivere su qualsiasi cosa, vi scrive tutto lui, non avete costi, però fatelo con la testa, super verticali, super specifici, offrire un problema, scriverlo nel titolo, scriverlo nella copertina, e poi la descrizione, guardate, dovete, nella descrizione, essere chiari, e dovete, come si dice, sventolare il problema, per esempio, il tuo gatto ha distrutto casa, bene, in questo manuale, ti spiego, passo passo, quello che devi fare, per avere un gatto educato, ok, passo passo, al suo interno, troverai, andiamo ad analizzare, come guadagnare su Airbnb, questo l'ho scritto io, non l'ho neanche, fatta scrivere, all'intelligenza artificiale, vi potete fare aiutare, all'intelligenza artificiale, ok, ma poi, mettete la call to action, rivedete il tutto, qua, quello che ha vinto, secondo me, che ha reso questo libro, palpabile è il prezzo più basso, e poi, strategie vincenti per fare più 5.000 euro al mese, con un appartamento, questa cosa super specifica, risolve un problema, ti dice come fare 5.000 euro al mese, compra questo manuale, e lo scoprirai, è questo, scopri come avere un gatto felice, in sette giorni, in questo manuale c'è scritto, prendilo, e nella descrizione dovete essere chiaro, nella copertina, gatto felice in sette giorni, come guadagnare su Airbnb e Booking, con la sublocazione, è il nuovo libro di dominio immobiliare, che ti guiderà passo passo, nel metodo infallibile, per guadagnare, anche questo fatto di scrivere, che c'è un metodo, cioè con questo metodo, con il metodo, che trovate all'interno di questo libro, potete risolvere il problema, il metodo che ti proponiamo, è la soluzione al tuo problema, siate chiari, ti guiderà passo passo, nel metodo infallibile, per guadagnare più 5 mila euro al mese, da un appartamento, destinandolo agli affitti brevi, su Airbnb e Booking, come guadagnare su Airbnb e Booking, con la sublocazione, è la guida più completa e dettagliata, che puoi trovare sull'argomento, attraverso le strategie, il metodo contenuto all'interno della nostra vita, sarai in grado perfettamente, di trovare immobili di qualità, scrivetelo, che i risultati, grazie al vostro libro, raggiungerà il lettore, scrivetelo, qui io lo sto dicendo, ma dopo che ho letto sto libro, che cosa succede? Sarai in grado perfettamente, di trovare immobili di qualità, convincere il proprietario a farteli gestire, e pubblicare annunci infallibili, su Airbnb e Booking, che ti permetteranno di incassare, in una settimana, il costo dell'affitto, che andrai a sostenere, e ottenere così, nelle tre settimane successive, dai 3 mila ai 5 mila euro, di incassonetto tutto per te, ecco alcuni argomenti che troverai, tutti i problemi, che possono trovare, qui nel libro, loro hanno proprio l'idea, che c'è tutto, ecco anche questo elenco, come aumentare il reddito, la subrucazione, come trovare gli immobili, tutto, dove pubblicare l'annuncio, mettete tutto quello, ritornando all'esempio del gatto, in 7 mosse, il gatto sarà felice, quindi, grazie al metodo, che c'è all'interno di questo libro, saprai rendere felice il tuo gatto, in 7 semplici giorni, ok, poi, cosa troverai al suo interno, tutti i sottoparagrafi, come, magari potete prendere i titoli dei capitoli, che io qui credo di aver messo i titoli dei capitoli, come far felice un gatto, come rendere sereno l'ambiente in cui vive il gatto, come non avere disturbi nella camera del gatto, faccio esempi, e poi, cosa aspetti quindi, ecco la call to action, acquista subito la nostra guida completa, e fiondati, ora in questa grande opportunità, di entrare nel mercato immobiliare, senza dover acquistare nessun immobile, e ottenere così, appartamenti che ti frutteranno più 5.000 euro, ogni singolo mese, ok, chiari, super specifici, ok, un risultato tangibile, deve essere nel titolo, qui, strategie vincenti per fare più 5.000 euro, nella copertina, se potete mettetelo, ok, descrizione chiara, dove descrivete il problema, descrivete il fatto che nel libro, c'è la soluzione, dite, che cosa otterranno, cosa sapranno fare, dopo aver letto il libro, dovete dirlo, tutto quello che troveranno all'interno del libro, e poi la call to action, a, coronare tutto questo, a rendere tutto, ancora meglio, se potete, tanto, si possono, vi fate, acquistare da qualche amico, ma ne basta anche una di recensione, vi fate comprare il kindle, da un amico, vi fate mettere 5 stelle, e scrivere qualcosa, perché quella è la ciliegina sulla torta, voi, fate tutto questo lavoro, pubblicate il libro su Amazon, avete anche una sola recensione 5 stelle, dove c'è scritto questo libro, bene, perfetto, ben fatto, e lì avete la vostra pagina di vendita vincente, perché la, siete super specifici, la gente capisce che, che risultati può avere, leggendo questo libro, nella descrizione siete chiari, gli spiegate il problema, e come il libro può trovare la soluzione, tutto quello che sapranno fare, dopo che avranno letto il libro, e poi la ciliegina sulla torta, uno scuola e dice, c'è pure una recensione, il prezzo basso, relativamente basso, una recensione, anche ne basta una, una recensione positiva, e quello dice, dai lo compro, magari compro il kindle, magari compro, di solito questo libro, hanno venduto di più le copie fisiche, ovviamente, e il gioco è fatto, Amazon comincerà a consigliare il libro, e voi genererete, delle vendite, ovviamente ci sono mille altre tecniche, potete fare la pubblicità su Amazon, potete fare mille cose, ma si parte da qui, basterebbe seguire questi semplici accorgimenti, nel titolo, nella copertina, nella descrizione, e nel momento in cui Amazon vi va a consigliare, voi otterrete delle vendite, e ogni mese otterrete vendite da questo libro, ma dovete scegliere bene l'argomento, scegliere bene il titolo, essere super specifici, ok, di un macro argomento, trovare la soluzione specifica, di un determinato sotto argomento, di una determinata angolatura del problema, come guadagnare online, come fare più specifici, come fare 2.000 euro, al mese partendo da zero, con Amazon, per dire, e allora lì, super specifici, seguite questi passaggi, riguardatevi questo video, mini corso ragazzi, pazzesco, che vi da cose che non vi dice nessuno, vi stanno tutti a vendere le strategie, io gratuitamente andando ad analizzare, un qualcosa che ha fatto, 82 euro e 75, era quando è stato pubblicato, non ricordo quanto tempo fa, però, e voglio, ho preso questo esempio, perché è un libro fatto così, a cavolo, per fare un video corso, per fare un corso qui su YouTube, ma siccome le cose sono state fatte bene, pur avendolo messo, è quello che ho fatto io, è che mi genera 4, 5, 6 vendite al mese, ovviamente i prezzi sono bassi, ovviamente, per avere guadagni interessanti, dovete scalare, fate un primo libro, lo lanciate, poi fate l'altro, fate l'altro, fate l'altro, una piccola palla di neve, che si ingrandisce, e voi, magari avete 10, 20, 30 libri al mese, che vi fanno 100 euro, 200 euro, poi dipende, se riuscite a trovare, l'argomento specifico, che non c'è nessuno, keywords, dove non c'è concorrenza, qualsiasi cosa, potete, ovviamente potete fare la ricerca sulle keywords, potete scrivere in inglese, avete tutto il mondo, potete fare mille cose, la pubblicità a pagamento, però da qui si parte, la base è questa, dovete creare un manuale, che risolve un problema specifico, che offre una soluzione, la soluzione è super specifica, deve essere esplicitata nel titolo, nella copertina, la descrizione deve essere fatta, in modo da far capire, che c'è questo problema, e che, cioè da descrivere il problema, che poi la gente ha quel problema, e Amazon porterà il libro davanti agli occhi, di chi ha poi il problema, ok, e però deve essere fatto tutto bene, la gente deve vedere, deve capire, ah ok, con questo libro faccio 5 mila euro al mese, ah io volevo guadagnare con Airbnb, ora lo prendo, ah c'è anche una recensione, ah vedi, la descrizione, vedi quanta roba c'è, ok, tutto l'elenco, vai lo prendo, con una recensione, prezzo anche basso, e il gioco è fatto, sono dei piccoli accorgimenti, ma che portano, ovviamente c'è da fare un discorso a monte, ci deve essere interesse, cioè dovete capire dove c'è interesse, dove la gente è interessata a risolvere dei problemi, di solito sono relazioni, soldi e salute, queste sono le tre macro aree, andate super specifici, ma costruite un libro così, e così vi genererà vendi, genererà, vabbè, avete capito, vi farà fare delle vendite, dovete, per vendere, si parte dall'inizio, dal titolo, prima del titolo, dall'argomento, dal settore, dalla nicchia, e scegliete bene, poi date un bel titolo, lo fate scrivere a CiaGPT, fate la descrizione, ma rispettate queste regole, riguardatevi questo video cinque volte, perché ho dato veramente tantissimo valore, cose che nessuno vi dice, queste sono le regole base, se fate così, vi basterà anche fare così, e voi genererete delle vendite ricorrenti ogni mese, perché Amazon è suo interesse, è fatto così, l'algoritmo funziona organicamente, che è una bellezza, vi andrà a consigliare il libro a chi ha bisogno di, o chi sta cercando determinate cose, e voi dovete creare la pagina perfetta, dovete creare la presentazione perfetta, il libro perfetto anche, deve matchare, e quando voi avete creato il libro perfetto, con il titolo giusto, chiaro, specifico, la descrizione giusta, la call to action, il prezzo giusto, anche una recensione, un paio di recensioni, qualche amico che vi spende due euro, ce l'avete, ecco, senza fare chissà che cosa, grandi strategie, o grandi segreti, o dover comprare corsi, vi guardate il corso di un'ora, su come scrivere un libro, con l'intelligenza artificiale, come impaginarlo, come caricarlo, lì è spiegato tutto, vi guardate questo, sugli accorgimenti per le vendite, e avete fatto, fate le cose per bene, una serie di libri, e avete generato una rendita passiva ogni mese, non mi merito l'iscrizione al canale, iscrivetevi al canale, fatemi sapere che cosa ne pensate, poi se volete essere seguiti da me, ragazzi, in descrizione c'è la mia mail, vi aiuto, io, se volete creare un vostro business, infoprodotti, anche volete consigli, sui libri, su Amazon, qualsiasi cosa, su praticamente YouTube, Cash Cow Channel, qualsiasi cosa, ciao GPT, sto facendo un sacco di consulenze, sto aiutando un sacco di voi, scrivetemi, c'è la mia mail, in descrizione, e mi scrivete, ci mettiamo d'accordo, ovviamente non sono gratuite, io ogni tanto lo devo dire, perché ogni tanto mi arrivano delle richieste, ti scrivo per la consulenza gratuita, no, se parlo con voi, ovviamente tolgo tempo ad altre attività, che mi fanno guadagnare, e quindi, il mio tempo è prezioso, e quindi va pagato per tutte le persone che sono serie e capiscono questa cosa, in descrizione c'è la mia mail, per il resto ragazzi, se non volete spendere soldi, volete fare soldi online, credo che qui avete veramente la cosa più semplice, vi guardate il corso, lo trovate comunque tra i video più visti di questo canale, ve l'ho messo anche qui nelle schede, vi guardate il corso su come creare libri, qui vi ho detto anche le strategie per venderlo, e otterrete soldi ogni mese, fatemi sapere come sta andando, e vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al canale, aiutatemi, visto che do tanto tanto valore, non vi chiedo nulla, a parte di iscrivervi e commentare, lasciate un commento, e noi ci vediamo, ad un prossimo video, ciao!